Buonasera telespettatori, ben ritrovati con la Riffa, non avete sbagliato canale, c'è qualcosa di strano, di particolare questa sera e se inquadriamo subito alla mia destra, guardate, per la prima volta dopo tanti anni sono il più basso di questa inquadratura ecco guardate qui, è anche un po' imbarazzante, ma al mio fianco ci sono Gaia, Sara e Mitia, dal nome un po' strano questi tre splendidi ragazzi, perché parleremo di modelli, ovviamente, di calendari, perché fra poco parte il 2009 e c'è l'assalto al calendario, parleremo di una Toscana da copertina, quella bella e non vogliamo parlare sempre di problemi le borse vanno giù, i soldi non arrivano a fine mese, oggi parliamo soltanto di bellezza Ben ritrovati, allora accanto a me abbiamo Patrizia Ovattoni, titolare dell'agenzia Nice Model, buonasera Patrizia Buonasera Poi abbiamo Giovanna Iafrate, che ha avuto un'idea particolarissima, che ci racconterà, ha inventato un calendario tutto particolare Buonasera E poi Sandro Pestelli, stilista Eccoci qui, allora, l'argomento si è capito benissimo, io prima di ritornare nel nostro set interattivo che abbiamo questa sera nello studio di Rete V38, io partirei subito con Patrizia Ovattoni dell'agenzia Nice Model di Firenze Perché siamo pronti con questi calendari? Sono pronti già da alcuni mesi, perché sono quasi tutti così scattati durante il periodo estivo? Diciamo che noi non facciamo molti calendari, abbiamo delle modelle E lei personalmente non fa i calendari? No, io no Questo voleva dire Sì, le nostre modelle, diciamo, fanno più cataloghi o sfilate, siamo più lanciati su questo settore qua Ma quante sono le modelle che arrivano, che magari non sono proprio, non hanno il profilo giusto per fare la modella a cui voi dovete dire, guarda, Francesca, forse hai sbagliato mestiere, quante sono?